buongiorno a tutti dal vostro grande capitano napoli e sempre forza napoli avete visto cari tifosi del napoli come me ho già attaccato qua la cocca della coppa italia io l'avevo già acquistata ed ero già molto molto fiducioso per questa finale però ovviamente la certezza assoluta è quanto la cosa verrà notte insonne sono ancora un po sonnato ho fatto fatica a prendere sonno penso come moltissimi di voi di questa grandissima gioia napoli campione della coppa italia sesta coppa italia vinta da napoli statisticamente il napoli nel totale delle coppa italia vinta addirittura super il mina perché prima erano 1.000 napoli a 5 napoli addirittura super il mina nelle coppa italia vinta cioè sei il napoli negli ultimi dieci anni nel decennale dal 10 al 20 il napoli ha vinta addirittura tre coppa italia negli ultimi dieci anni le sei coppa italia del napoli 61 62 75 76 86 87 2011 2012 parlo delle stagioni 13 14 ed appunto questa qua del 19 20 veramente una grande soddisfazione ho già parlato della partita di ieri dove napoli gli avversari erano partiti un pelino meglio senza creare clamoroso occasione di gol poi napoli cresciuto il palo clamoroso nel primo tempo un paio di grandi parate di buffon una del primo mi sembra una nel secondo tempo il clamoroso palo su un'altra grande parata di buffon 93esimo e poi nei calci di rigore si è resa protagonista determinante il nostro amaretta che ha fatto a parte quel bellissimo rigore veramente un gatto è stato un grande portiere sul di bala poi dopo danilo l'ha sbagliato il napoli è stato bravo non sbagliare neanche uno e ha meritato questa coppa italia ha fatto veramente una grandissima gioia sono veramente molto contento ieri ho fatto una bellissima bellissimo bigo da questo napoli club ricomincio da tre una grande gioia indescrivibile veramente vincere questa sesta coppa italia gattuso aveva preso in mano una squadra che con ancellotti era in quel momento allo scattafascio non eravamo neanche tra le prime 6 7 ha fatto veramente una grande impresa gattuso ha preso questo napoli ricordo che è stata una grande vittoria coppa italia perché dopo tanto tra qualche anno giustamente anche chiunque sia va a vedere chi l'ha vinta in quell'anno va a vedere i vari per curiosità anche su wikipedia tra molti anni magari i vari squadre che eliminate si vedrà che agli ottavi vabbè il perugia una squadra di serie di ma i quarti di finale eliminato alla lazio che lotta in questo momento con la juventus per lo scudetto e ci hanno un punto di differenza a 12 partite dalla fine seconda cosa in semifinale ha eliminato l'inter e in finale ha battuto la juve quindi non si potrà dire tra qualche anno ma ha avuto magari fortuna o in quarta e semifinale trovare una squadra tra virgolette materasso perché a volte capita nella storia che ad esempio la sampdoria nessuno mi ricordo negli anni 90 l'hanno preciso non me lo ricordo ha vinto nel 94 una finale di coppa italia ma è un esempio banale in che contro una squadra mi sembra che era in serie via addirittura l'ancone di napoli addirittura battuta in finale della juventus e in semifinale l'inter quartierazzo veramente una grande impresa del napoli ricordo che ieri non l'hanno detto ma è sottinteso è ufficiale il napoli anche ovviamente in finale di supercoppa italiana il napoli c'è di sicuro al momento non è ancora sicuro quale sarà la squadra perché la juventus si è in testa il campionato però a un solo punto di differenza della lazio nella malaugurata dell'ipotesi per i tifosi della juve e lo speriment tifosi della lazio che la lazio vincesse lo scudetto quest'anno la finale di supercoppa italiana che adesso non si sa quando che sarà ma presuribilmente potrebbe essere a dicembre di quest'anno su per giù tra napoli e lazio quindi quasi sicuramente la finale supercoppa italiana sarà tra napoli juventus oppure tra napoli e lazio stasera cercherò avete molte statistiche cercherò di capocannoniere della del torneo della coppa italia se non sbaglio verrà assegnato con tre gol a lorenzo insigne napoli vince la sua sesta coppa italia ma grande don napoli ha giudicato alla finale di supercoppa italiana contro la juventus oppure contro la lazio c'è la vincente dello scudetto di questa stagione 19 20 una grande gioia gattuso veramente merita rinnovo di contratto appunto come ho detto ha preso in mano una squadra che era un po allo scatta fasce grande difesa ha rispolverato maximovic veramente cerchiamo di onorare al meglio il finale di questa stagione quanto riprenderà il 23 di giugno verona napoli ovviamente a porte chiuse si scherà non mi ricordo c'è alle 7 e mezza alle 9 di sera comunque vi aggiornerò vedrò stasera se da solo o con qualche anche youtube di fare una bella live per festeggiare bene la vittoria di questa coppa italia veramente una grande gioia peccato che non c'era il pubblico e che non era generalmente per cui poi dei coronavirus purtroppo la pandemia una situazione normale mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto iscrivetevi al mio canale se scusatemi se non vi siete con iscritti sempre e comunque forza napoli siamo ancora molto 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 contenti della vittoria di questa coppa italia un buon proseguimento di serata e dal vostro grande capitan napoli ciao